Quando ero al liceo mi sentivo un po' stupido a dover spiegare il paradosso di Zenone, cioè in una gara a Chille non avrebbe mai raggiunto la tartaruga alla quale aveva concesso un vantaggio iniziale. Oggi però vedo che c'è qualcuno più paradossale di Zenone, quasi uno Zalone. Ecco, Conte Zalone vorrebbe farci credere che la riforma del MES va votata, ma non va attuata perché brutta, sporca e cattiva. Il paradosso che proponete è il logico e non senso, tanto quanto la tartaruga che starebbe sempre più avanti rispetto ad Achille. Il MES lo prenderete, sarete costretti a prenderlo perché ve lo ordinerà quella a Bruxelles della von der Leyen che vi ha già obbligati alla riforma stessa, quella a Bruxelles da dove siete andati a prendere il ministro Gualtieri. La BCE non continuerà a lungo ad agire come se fosse un prestatore di ultimistanza, a comprare titoli sui mercati secondari, ad allargare le maglie del capital key rule o di forzare il suo ruolo sui tassi di interesse. Perché il libretto di istruzione della BCE non prevede questo. Il governo giapponese ha approvato ieri un altro piano di stimolo, pari a 580 miliardi di euro. Così, quando la BCE smetterà di fingersi market maker, i tassi di interesse si alzeranno e si giocherà alle regole dei mercati finanziari. E siccome nessuno coprirà più le nostre spalle, ecco che il governo dovrà accedere alla linea di credito del MES, altro che smantellarlo. Conte e Gualtieri promisero alla signora Ursula che saremmo stati disciplinati scolaretti e che l'Italia sarà pronta a ristrutturare il debito pubblico come vogliono i falchi. Quindi, imponendo ancora sacrifici, tagli e austerità, state tradendo il senso del voto delle ultime politiche. La maggioranza degli italiani voleva uscire dal sistema, dalla gabbia. E per questo aveva premiato democraticamente le forze che si presentavano come antisistema. State completando la transizione dal popolo sovrano ai mercati sovrani, dai cittadini alle lobby sovrane e ai grembiolini sovrani. Avete svuotato questa Assemblea, non avete più pudore. Per reggere questo governo di euro in omani, il Movimento 5 Stelle sta tradendo il programma che ha presentato agli elettori. Sta tradendo i cittadini che volevano vederlo battagliare per difendere il popolo sovrano. E chi combatte le giuste battaglie può morire, è vero. E chi fugge, come state fuggendo voi, resterà vivo, almeno fino alla fine della legislatura. Ma tra molti anni, a partire da adesso, siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi per avere un'altra occasione, solo un'altra occasione per difendere la libertà degli italiani, per respingere il ricatto della finanza, per urlare che le regole di Bruxelles sono un ricatto infame. Voi dicendosi oggi state dicendosi al MES e state omaggiando Caronte di un altro colpo di remo per spingere gli italiani verso l'euro inferno. No MES, viva i Talexi!